Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. Torniamo ad occuparci della vicenda di Riviera Acqua, la società consortile di gestione del servizio idrico imperiese. Mentre si attende la prossima assemblea dell'11 dicembre, i sindaci dovranno versare oltre un milione e mezzo di euro per salvare la società, il servizio. I sindaci dell'ambito idrico imperiese che hanno già aderito a Riviera Acqua hanno deliberato in merito alla suddivisione della copertura dei costi annuali di gestione non coperti dalla bollettazione. Si tratta di un totale di 3,7 milioni di euro, dei quali il 50% se lo accorreranno i comuni aderenti alla società pubblica. La cifra potrebbe quindi mettere in sicurezza Riviera Acqua in occasione dell'udienza del fallimento fissata per il 19 dicembre in Tribunale Imperia. Nel frattempo, il prossimo 11 dicembre, l'assemblea dei sindaci soci tornerà a riunirsi per discutere delle modifiche alla convenzione fra comuni e società chieste a gran voce da molti amministratori. Sulla vicenda di Riviera Acqua e sui risvolti politici si fa avanti anche Andreina Puccioni, l'esponente del PD, membra del CDA di Amat che aveva votato per il fallimento e la cui auto è stata oggetto di atti vandalici. La Puccioni chiede che si abbassino i toni e ricorda che la situazione era nota da due anni alla provincia, al comune e anche al Partito Democratico, ma nessuno ha risposto agli appelli lanciati da Amat e il CDA ha dovuto quindi agire a tutela della società partecipata dal comune. Sempre dal fronte politico, Rifondazione Comunista, alla luce della nuova inchiesta della Guardia di Finanza, chiede il ricambio di tutto il CDA di Riviera Acqua e maggiori strumenti di controllo in mano ai comuni. Rifondazione inoltre punta il dito contro la provincia che avrebbe mancato al suo ruolo di controllore della società pubblica. La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto due magazzini del falso in pieno centro storico nei pressi di Via Balbi e ha sequestrato oltre 24.000 articoli di moda con marchi contraffatti pronti a essere venduti. Gli interventi delle fiamme gialle genovesi hanno consentito di denunciare all'autorità giudiziaria cinque responsabili per reati di ricettazione, introduzione, produzione e commercializzazione nello Stato di prodotti con segni falsi, due dei quali anche per violazione delle norme sull'immigrazione. All'interno dei magazzini sono stati trovati e sequestrati numerosi macchinari usati per la falsificazione di famosissimi marchi di moda come presse, macchine cucitrici e cliché. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato ha installato un punto di informazione a Imperia in Piazza Bianchi. Nel gazebo questa mattina si sono recati il prefetto Silvana Tizzano e il questore Cesare Capocasa. Ascoltiamo l'intervento del prefetto. Prefetto, una giornata importante che vede in prima linea anche la Polizia di Stato per dire no alla violenza alle donne, ma soprattutto per invitare le donne a uscire dal silenzio, a farsi avanti, anche quando magari non ci sono ancora vere e proprie violenze fisiche, ma segnali che possono essere pericolosi, è così? Sì, è una giornata importantissima, è una giornata che naturalmente si svolge un po' in tutte le città d'Italia, in cui sicuramente va valorizzato il lavoro che si sta facendo sul territorio da parte di tante reti, da una rete associativa fatta da tanti anche volontari che si spendono. Quello però che è significativo e che in questo momento vuole sottolineare è l'impegno in particolare della Polizia di Stato che anche attraverso questi gazebo informativi cerca di diffondere un messaggio di invito alle donne, soprattutto ad uscire fuori dal chiuso delle mura domestiche, denunciare atteggiamenti, anche i sintomi di atteggiamenti che potrebbero nascondere problematiche grosse all'interno della famiglia, soprattutto in un momento in cui purtroppo le famiglie sono diventate anche abbastanza piccole, cioè non si trovano all'interno della famiglia delle persone a cui poter confidare momenti difficili, situazioni critiche, quindi si sente il bisogno di andare all'esterno. La cosa più importante è trovare dall'altra parte delle persone oggi formate, preparate come sono nella Polizia di Stato che sta svolgendo un'attività ad hoc, ha formato il proprio personale proprio per essere pronto a recepire anche quei passaggi che potrebbero passare inosservati. Quindi un plauso, un'iniziativa voluta dal Ministero dell'Interno affidata giustamente alla Polizia di Stato in maniera tale che si abbia anche una forma di fiducia nei confronti anche di una persona che indossa l'uniforme, non la si veda come un momento di repressione ma come un momento di accoglienza, di disponibilità all'ascolto e di comprensione di quei fenomeni, ripeto, che possono svilupparsi in maniera abnorme, in maniera violenta. Sempre in merito all'iniziativa della Polizia Imperia, ascoltiamo ora al questore Cesare Capocasa. Polizia di Stato in prima linea per dire no alla violenza alle donne attraverso un gazebo informativo per far capire che gli uomini indivise, le donne indivise, sono a disposizione anche solo per ascoltare, anche per ricevere segnalazioni, non è necessariamente una forza di repressione. No, no, assolutamente. Questo è un progetto che la Polizia di Stato ha avviato già da tempo ed è un progetto che non si ferma a circostanze occasionali come può essere quella di oggi, pur importante della giornata mondiale, la violenza nei confronti delle donne. È un progetto che continueremo a portare avanti, di sensibilizzazione e di informazione, un processo di crescita della civilizzazione e direi proprio della cultura della collettività perché credo che questo processo, questa implementazione possa portare a dei risultati ottimali sotto il profilo della diminuzione di queste forme di violenza sempre più drammatiche, sempre più esasperata. Un impegno costante, tutti i 365 giorni dell'anno, questo è bene evidenziato. Questa è la volontà del Dipartimento, questa sarà la mia attività con i miei uomini, con le mie donne per informare, sensibilizzare, prevenire. Quella che è una violazione, come ho già detto prima nella circostanza dell'inaugurazione dell'Ozonda, queste panchine rosse molto particolari, noi dobbiamo lavorare su un'emergenza civile, questo è un dramma sociale e culturale, è una violazione dei diritti umani che purtroppo non conosce connotazioni e purtroppo non si riesce ad arrestare. Sono poche ancora le donne che denunciano, ho fatto un appello giorni fa, lo faccio di nuovo, continuerò a farlo perché le donne devono uscire, capisco le difficoltà di denunciare un compagno o un ex compagno, ma le donne devono uscire dal silenzio, devono rompere questa vergogna, devono aiutarci ad essere aiutate, quindi aiutateci ad aiutarvi denunciando, solo così possiamo aiutarvi. Al punto informativo della Polizia Imperia è intervenuta anche la coordinatrice del Centro Antiviolenza Provinciale, Martina Gandolfo, sentiamo. La dottoressa Martina Gandolfo è la coordinatrice del Centro Provinciale Antiviolenza, con un impegno importante a fianco delle donne, qual è l'attività del Centro Antiviolenza? Allora, il Centro Provinciale Antiviolenza è presente sul territorio provinciale con tre sportelli a Imperia, Sanremo e a Ventimiglia. Le volontarie e le operatrici accolgono tutte le donne e le ragazze vittime di violenza e maltrattamenti e le accompagnano in un percorso di fuoriuscita dalla situazione di violenza. Al Centro Antiviolenza e agli sportelli di ascolto ci sono anche psicologhe, avvocate, tutte insieme si lavora per un progetto individualizzato a seconda delle esigenze della donna. Ovviamente lavoriamo in rete con le forze dell'ordine e quindi anche qua oggi è importante anche la nostra presenza, con tutti i servizi territoriali, con l'ASLE, con cui facciamo anche prevenzione nelle scuole del territorio. Lo Zonta Club di Imperia, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, ha inaugurato le panchine rosse, simbolo della vicinanza alle donne. L'iniziativa è stata svolta in collaborazione con il Comune Capoluogo. Sentiamo. Renata Vallò, Presidente dello Zonta Club di Imperia. Oggi in Piazza della Vittoria, un'iniziativa particolare dello Zonta che da anni è impegnato ovviamente vicino alle donne e anche contro la violenza delle donne. Allora, Zonta è un'associazione internazionale impegnata, come proprio diceva lei, nel migliorare la condizione della donna. È presente in 67 paesi del mondo. Ad Imperia lo Zonta Club è attivo da 34 anni e lancia oggi, 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulla donna, il suo grido in aiuto alle donne. Lo fa inaugurando queste panchine rosse, che sono le prime della provincia di Imperia. Panchine simbolo di sensibilizzazione sulla popolazione, come in passato abbiamo fatto le scarpe rosse. Se lei si ricorda, eravamo all'olio oliva dall'ex tribunale di Imperia sulla gradinata, avevamo fatto tutte le scarpe rosse. Si sono radunate attorno a noi tante autorità civili e militari e questo è il segno che il sasso lanciato è stato raccolto. Perché la più grande dimostrazione di collaborazione che avremmo potuto ricevere? Perché solo se siamo in tanti, se solo se facciamo gruppo possiamo realizzare tante cose. Da soli non si va da nessuna parte. Vogliamo ringraziare il Comune, nella persona del sindaco ingegner Capaci che ha autorizzato questa manifestazione, che ci ha fatto colorare di arancione la fontana, che ci ha fatto appendere lo striscione al Cremlino. Vogliamo ringraziare l'assessorato alle pari opportunità che per la completa disponibilità e sostegno ci ha permesso di realizzare questo progetto. Vogliamo ringraziare l'assessorato alla Red Urbano, nella persona dell'architetto Parodi, la professoressa Pramaggiore, preside del liceo linguistico a Moretti e del liceo artistico, che ha permesso ai ragazzi di partecipare ieri sera alla conferenza che abbiamo fatto al Parasio alla chiesa di San Pietro e di realizzare le panchine rosse e i prezzi preparati dagli artisti Federica Porro e Bruno Ramella. Si ringrazio innanzitutto a Zonta di Imperia per l'invito, porto il saluto del Presidente e di tutta l'amministrazione provinciale. È la prima volta, il primo anno che ho il piacere di partecipare a questo evento che chiedevo poco fa alla Presidente, si sta ripetendo ormai da diversi anni e ho letto un po' di cose anche a livello non solo provinciale ma nazionale e internazionale dell'importanza che si è voluta dare giustamente a quello che oggi qua si celebra. È stato un onore essere qua questa mattina per inaugurare questa panchina che è la terza già presente sul territorio cittadino e ho anche chiesto magari di metterne qualcuno in più. è un video messaggio, è un segnale che vuole ricordare a chi lo vede che c'è un problema che è la violenza sulle donne che non deve essere sottovalutato anche perché sta emergendo in queste ultime settimane in maniera forte anche da paesi dai quali probabilmente nessuno se lo sarebbe mai aspettato e da settori tipo il cinema piuttosto che altri e quindi quello che ho detto qua stamattina è quello di non avere nessun tipo di remora e anche se magari una cosa può sembrare trascurabile, occorre procedere a denunciare i fatti. La giornata internazionale contro la violenza sulle donne è un'occasione in più per focalizzare l'attenzione su un tema che però deve essere una priorità durante tutto l'anno. Lo ha sottolineato ai nostri microfoni il consigliere regionale di parità Laura Moretti. Sentiamo. Giornate ancora una volta sulla violenza, giornate in cui parliamo di violenza e parliamo soprattutto delle vittime di violenza, purtroppo, perché comunque vorremmo che queste giornate non venissero mai, vorremmo che la giornata internazionale contro la violenza sulle donne non fosse necessaria. Stiamo lavorando tantissimo per poterla così capovolgere nel positivo perché questa violenza non si debba più subire, perché ci siano sempre donne che possano in qualche modo vivere in modo autonomo nella loro serenità di un amore non malato. Io come consigliere di parità provinciale e consigliere di parità regionale porterò ancora una volta il mio impegno non solo oggi, non solo in queste giornate, ma durante tutto l'anno soprattutto lavorando per creare a queste donne un'autonomia economica, per creare dei percorsi lavorativi, perché soprattutto anche attraverso i percorsi lavorativi loro possono gestire la propria vita in modo autonomo senza amori malati. Anche a Genova si sono tenute diverse manifestazioni legate alla giornata contro la violenza sulle donne. In particolare è stato inaugurato un muro dell'arte per i diritti delle donne decorato da diversi artisti. Vediamo. Non dobbiamo arretrare sui nostri diritti di donne e contro la violenza non è mai acquisito questo fatto, quindi essere qui è una testimonianza che non arretriamo. In Liguria abbiamo inserito l'esenzione ticket, le donne che subiscono violenza non devono poi pagarsi le prestazioni sanitarie, ma verranno seguite nel loro percorso di assistenza anche psicologica, dopo che accade quello che, ahimè, purtroppo ancora oggi accade. Quindi siamo qui, col cuore e con l'emozione. Ovviamente io sono vicino a questo messaggio, sono vicino e lo penso veramente non soltanto con il mio ruolo istituzionale, ma anche personalmente e anche col cuore. Allora questo ovviamente è il muro, ma va nutrito e quindi abbiamo bisogno che tutti quanti voi portiate la vostra di testimonianza. Da qui nasce un progetto che vuole essere un monito per tutta la città. Allora facciamo insieme il 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1... Bene, grazie. Grazie a tutti. Sicuramente un Pink Friday, un verde e una viola, un rosa, un colore di portafortuna per tutti quanti noi per superare questa brutalità. E questo è il muro dei diritti, il muro dell'arte, il muro of dolls. Ognuno può metterci qualcosa, un suo pensiero. Barbara aveva creato anche una lavagna sulla quale poter scrivere ognuno il proprio pensiero e il proprio ricordo. E vi ricordo di portare le vostre bambole. E questo deve essere un orgoglio. Sfido chiunque a provare a usare violenza contro questo muro, che deve essere il muro della cura, dell'attenzione e dell'amore. Mai usare violenza né contro le donne né contro le cose. E questo credo che sia un marito molto importante, perché deve esserci il rispetto per la nostra diversità. Facciamo un applauso a tutti quanti, buona fortuna, il battaglucro al nostro muro! Ci fermiamo solo un istante, restate con noi. Il progetto della nuova pista ciclabile di Imperia, finanziato con il bando Periferie, è stato presentato ai cittadini ieri sera nella biblioteca Lagorio. Sentiamo in merito gli assessori comunali Enrica Fesia e Guido Abbo. Abbiamo una fortuna. A San Lorenzo arriva Area 24. La scommessa è far continuare Area 24 e arrivare a portarla addirittura sino a Roma, con la nuova ciclovia tirrenica, che è un progetto che sta portando avanti la regione Liguria insieme al Ministero. Il nostro progetto è stato finanziato, o perlomeno poi vi racconterà l'assessore Abbo a che punto siamo del finanziamento. La scommessa che abbiamo fatto è stata quella di arrivare da San Lorenzo sino ad Oneglia, i fondi erano quelli, e c'è un'altra parte del progetto che riguarda la riqualificazione del parco urbano, perché anche quella è una parte di città dimenticata. Oneglia e Porto Maurizio sono sempre state separate. Come unirle? Proprio tramite la ciclabile, un modo in cui le persone possano velocemente andare da una parte all'altra della città, che è lunga e disposta lungo la costa, e possano facilmente andare a lavorare, uscire dalla stazione che è stata spostata, andare al palassanità, andare alle spiagge, senza avere dei percorsi che siano inframmezzati da strade urbane di traffico veloce, e avere delle connessioni fra le zone dell'interno, fra tutti i borghi che ci sono all'interno, che sono bellissimi, e il mare. Noi abbiamo pensato di, prima di tutto, pensare a una ciclabile che rispetti i parametri europei, per cui questa ciclabile può entrare anche nel percorso europeo, quelli di euro veloce. Quindi, le larghezze devono essere di un certo tipo, la valutazione delle interconnessioni deve essere di un certo tipo, che abbiamo perfettamente valutato, perlomeno in linea di massima, con un progetto di fattibilità, che non è arrivato ad un progetto definitivo, devono essere perciò ulteriormente valorizzate le interconnessioni con la città. Questo progetto diventa importante perché permette ad Imperia veramente di cambiare fisionomia e di cambiare mentalità. È tutto molto difficile, i contributi stanno per essere concessi, nel senso che siamo in attesa dell'ultimo provvedimento. La tempistica di erogazione potrà essere, diciamo così, se va tutto bene, secondo me, si potranno partire con i lavori a inizio 2019. In mezzo cosa ci sta? In mezzo ci stanno tutta una serie di atti amministrativi e politici che stiamo compiendo, bisogna chiudere la trattativa che stiamo facendo con la rete ferroviaria italiana, per ottenere gratuitamente la concessione delle aree, che ovviamente se non ci mollano le aree non possiamo fare nulla. Dobbiamo andare a fare una convenzione col Ministero, dobbiamo indire dei bandi per la progettazione, e quindi già solo i bandi per la progettazione, si parla di bandi europei, perché sono cifre molto alte. Dopodiché dobbiamo fare i bandi per la realizzazione, e sono tutte cose molto complicate, molto difficili, su cui siamo veramente al limite, perché stiamo remando da un anno e mezzo, vi assicuro che è molto difficile. Questo per quanto riguarda la tempistica dei lavori e della possibile esecuzione. Sul fatto di, invece, tempistica per quanto riguarda la durata dei lavori, stimiamo che un paio d'anni o due anni e mezzo possano essere sufficienti. Quindi se va tutto bene, direi che intorno al 2020-2021 potremmo già iniziare a avere la ciclabile e le infrastrutture viabilistiche collegate. Una cosa molto bella di questa serata, di cui sono veramente felice, è che noi abbiamo coinvolto i ragazzi dell'Istituto Turistico Emburi, che ci hanno dato una mano a spiegare il progetto ai cittadini. Alla presentazione è intervenuto anche il consigliere regionale Marco Scaiola. Ascoltiamo il suo commento. Innanzitutto questo non è ancora un progetto vero e proprio, quindi bisognerebbe essere un po' più prudenti. È un elaborato che è stato fatto, che presenta anche qualche criticità che sarebbe opportuno anche approfondire e migliorare. Ad esempio sono previste due, tre rotonde che rischiano di essere forse più un problema logistico che una possibilità di realizzare una pista ciclabile. È un punto di partenza importante che ha voluto realizzare il Comune d'Imperia e noi come uffici abbiamo dato anche sin dall'inizio grande disponibilità. Però è ovvio che dobbiamo fare un piano più regionale e più territoriale, ovvero i Comuni è giusto che abbiano una loro autonomia decisionale, ma è meglio lavorare per fare in modo che la pista ciclabile possa avere una sua reale continuità. Questa prima bozza di visione della ciclabile imperiese ha al suo interno diverse criticità tecniche, ma mi risulta che anche lo stesso Comune ne sia consapevole. Benvengano queste presentazioni pubbliche con cui si può dialogare con la città e ascoltare anche suggerimenti importanti. Noi come Regione abbiamo diverse osservazioni da fare che riteniamo utili, proprio perché la pista ciclabile deve essere una vera e propria pista ciclabile e non deve avere dei tratti che la vadano a spezzettare, quindi a rendere non proprio una pista ciclabile ma qualcos'altro. Ma come Regione abbiamo sempre dato grande disponibilità a tutti i Comuni e lo continueremo a fare. Abbiamo anche portato avanti l'accordo con le ferrovie e con i Comuni per fare in modo che quella che era una volta la pista ferroviaria possa essere data per la pista ciclabile ai Comuni in maniera gratuita, che era uno degli scogli più importanti che i Comuni rischiavano di avere sulle proprie spalle. Stiamo lavorando quindi come Regione sia anche per quanto riguarda ovviamente i fondi. C'è tutto il progetto nazionale della Tirrenica, 50 milioni a livello nazionale, dove noi contiamo a livello regionale di avere una fetta importante di queste risorse. Stiamo lavorando in maniera molto tenace. Ecco, su questi progetti bisognerebbe avere un po' più di prudenza perché ogni tanto al loro interno forse nascondono delle criticità tecniche che sarebbe meglio, e ne parleremo questa sera, affrontare con attenzione perché altrimenti si rischia magari di fare qualcosa che poi così bene non vada. Spetta all'Italia per il 2017 il record mondiale per varietà di patrimonio alimentare con ben 5.047 specialità alimentari tradizionali. Anche la Liguria risulta essere nella top 10 delle regioni con maggior numero di varietà alimentari. Sentiamo. Spetta all'Italia per il 2017 il record mondiale per varietà ed ampiezza di patrimonio agroalimentare con le sue ben 5.047 specialità alimentari tradizionali presenti su tutto il territorio. Il numero dei prodotti salvati dal rischio di estinzione è aumentato del 131%. Questo quanto risultato dal censimento delle specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni presentato dalla Coldiretti in occasione dello storico appuntamento dell'Anno internazionale del cibo italiano nel mondo proclamato nel 2018 all'apertura del villaggio contadino della Coldiretti sul lungomare Caracciolo a Napoli. Anche la Liguria, afferma il direttore di Coldiretti Liguria Enzo Pagliano, nonostante il territorio d'estensione ridotta, risulta essere nella top 10 delle regioni con il maggior numero di varietà alimentari. 294 sono i prodotti che rispecchiano la nostra terra e l'hanno resa famosa in tutto il mondo, oltre che per il mare e anche per la cucina. Si va dalla verdura al pesce, dai formaggi ai salumi, dalle salse ai dolci. Chi non conosce, continua Pagliano, la focaccia genovese, il pesto, l'oliva taggiasca, la torta di riso e i prodotti della terra come la varietà di pomodoro cuore di bue o la patata quarantina. In questa importante occasione del villaggio Coldiretti di Napoli, afferma il presidente Coldiretti Liguria Geronamo Calderi, saranno presenti numerosi prodotti Liguri per permettere a tutti di conoscere un po' meglio la nostra cucina. Il Made in Italy è un patrimonio che va difeso dai prodotti esteri che cercano di imitarlo e presentato con orgoglio ai turisti sia italiani che stranieri, in modo che si facciano a loro volta portatori di cultura culinaria italiana nel mondo. Si è tenuto ieri a Savona lo spettacolo University Campus On Stage presso il Teatro Chiabrera, un evento con cui il polo universitario di Savona ha fatto conoscere le proprie attività, le varie collaborazioni anche internazionali e l'innovativo modello di sviluppo del territorio. Vediamo. Si è tenuto ieri sera a Savona lo spettacolo University Campus On Stage, è andato in scena al Teatro Chiabrera, un evento dedicato e destinato alle famiglie e alle realtà del territorio, ai giovani, alle aziende e ai cittadini, con cui il polo universitario di Savona, nell'ambito del progetto di interazione università-territorio, denominato University, vuole coinvolgerli per far conoscere le proprie attività, le varie collaborazioni anche internazionali, l'innovativo modello di sviluppo del territorio, basato sull'economia dell'innovazione e la sostenibilità, che si prefigge come volano. L'iniziativa, sostenuta dall'Università di Genova e da Fondazione Cima, con sottotitolo Eccellenze del Campus in scena in città, ha visto diversi momenti di spettacolo che si sono alternati a contenuti multimediali e format dimostrativi. Tra le novità che riguardano il campus di Savona, l'inaugurazione del laboratorio delle cosiddette Smart Grid, delle reti energetiche ad alta efficienza e basso impatto ambientale, che avverrà il prossimo 4 dicembre, alla presenza del Presidente di Enel Grieco e del Ministro della Difesa Pinotti. E adesso l'angolo di Daniele Lacorte, che oggi ci parla di Tifo allo stadio. La nazionale italiana fuori dai mondiali, dispiacere e rabbia. In certi casi prevale la rabbia, come quasi ogni domenica, sui campi da gioco. E sono i soliti facinorosi che danno sfogo all'ira in maniera diversa. Allo stadio insultano, imprecano, violano ogni forma di democrazia, inneggiano alle destre estreme, infangano il nome di vittime dell'olocausto. La tensione è sempre alta e anche la guardia. C'è la xenofobia dilagante e la voglia di rompere con il diritto, attaccando anche le istituzioni. Il calcio, troppo spesso, si tramuta in tramite della violenza gratuita contro tutti e contro tutto. Troppo spesso, per colpa di tifoserie, di sennate, c'è scappato anche il morto. E sembra assurdo. E con la criminalità dilagante, con il terrorismo, che creerà nuove allerte nel periodo nazianizio, si debbano impegnare forze dell'ordine per tenere a bada i nergumine che guardano allo stadio più come ad un ring che ad un camperboso dove la palla corre per divertire, non certo per intimorire. Gli striscioni con insulti tra tifoserie diverse sono cosa antica, ma oggi non c'è più limite a nulla. E gli sballati degli stadi attaccano e insultano la polizia utilizzando parole in codice. A Torino li hanno pizzicati, la Digos li ha identificati e i presunti giuventini, sono più di 11, sono stati denunciati e colpiti da DASPO. Non potranno più entrare allo stadio. C'è proprio da sottolineare che la demenza corre veloce da una curva all'altra, all'insegna dei deficienti da stadio. È il momento di vivere venti e subito dopo i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare ralentamenti al traffico sul tratto della A10 Savone, confine di Stato, direzione Francia carreggiata nord, tra Savone e Spotorno chiusura della corsia di sorpasso per installazione nuovo bypass dal 28 novembre al primo dicembre, tra Imperia Ovest e Arma di Taggia chiusura della corsia di marcio di sorpasso per manutenzione viadotto Tufo dal 28 novembre al primo dicembre, direzione Genova carreggiata sud, tra Bordighera e Sanremo carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per rifacimento della pavimentazione dal 27 al 29 novembre, tra Spotorno e Savono a chiusura della corsia di sorpasso per installazione nuovo bypass dal 28 novembre al primo dicembre. E vediamo le previsioni meteo dei prossimi giorni con ARPA al Meteor Liguria. Domani, domenica 26 novembre, un sostenuto flusso secco settentrionale garantisce una giornata in prevalenza serena, ad eccezione del transito di media nuvolosità in mattinata, possibile residua instabilità sull'estremo ponente nelle prime ore e nel tardo pomeriggio e sull'estremo levante in mattinata, umidità su valori bassi, 20 settentrionali di burrasca con raffiche fino a 90-100 km orari su rilievi e capi esposti, in calo dal pomeriggio fino a intensità tra forti e moderate, mare molto mosso lungo la costa centrale. Dopodomani, lunedì 27 novembre, la ventilazione settentrionale mantiene cieli sereni per tutta la mattinata, a parte il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio l'instaurarsi di un debole flusso meridionale favorisce lo sviluppo di ogni uvolosità bassa nell'interno, umidità su valori bassi, 20 settentrionali tra deboli e moderati al mattino, in prevalenza deboli in rotazione dai quadranti meridionali dal pomeriggio, mare poco mosso. E' da tutto per l'edizione di oggi, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci!